Un altro David speciale, ad una grande professionalità, un'eccellenza italiana, Francesca Lo Schiavo. Una vera eccellenza italiana. Quanti sono gli Oscar? Tre. Tre. Con suo marito? Con tre io e tre lui. E tre lui. Quindi in casa ne abbiamo sei. Sei. Ecco. Fate la divisione dei beni, no? Abbiamo otto nomination io e undici lui. Quindi quasi venti. E non è un'eccellenza italiana? Ma dov'è il suo marito? Dov'è? Dov'è? Allora, che cosa dire di questo David speciale? Tra i tanti premi, però questo fa sempre piacere. Ma questo è un onore e una gioia. Sono grata veramente a tutti i membri dell'Academy per avermelo assegnato. e veramente è la celebrazione, è la celebrazione, questo premio, del grande cinema italiano. Lo voglio dedicare a tutti i registi con cui ho lavorato e che mi hanno insegnato, attraverso il loro genio e le loro capacità, mi hanno insegnato di guardare oltre il possibile, perché tutti avevano una fantasia e una capacità di guardare oltre. E questo per me mi ha fatto diventare una persona diversa attraverso tutti i loro lavori. E poi lo dedico ai giovani, che spero qualcuno di loro faccia ancora il mio lavoro, perché è un bellissimo lavoro. Ciao Dante. E grazie a questi registi voi siete riusciti a farci vedere oltre. Grazie per il vostro lavoro e per il suo lavoro. Grazie mille. Grazie.